Facciamo gli auguri ai reggini. Ovviamente che sia una santa Pasqua per tutti quanti i reggini che diciamo per tutti coloro che in questo momento vivono un momento particolare della loro vita, quindi un augurio a tutti quanti. A Pasquetta dove vanno? A Pasquetta penso che faremo la Pasquetta in casa, quanto per stare un pochettino uniti. La famiglia necessita anche di parlare, di discutere su tutte le problematiche, quindi è un buon momento per stare tutti quanti a tavola e discutere di tutto quello che c'è da discutere. Tanti auguri ai reggini. Alla politica reggina? Alla politica no, noi facciamo gli auguri a tutti i cittadini, non alla politica. La politica deve inaugurare ai cittadini che siano delle feste passate in famiglia e passate in serenità. Auguri di una buona Pasqua alla Calabria, ai calabresi. Spero che sia una Pasqua che dia un futuro migliore per tutti e spero che la Regione possa contribuire a questo. Approfitto della vostra cortesia, della vostra disponibilità per mandare un messaggio di buona Pasqua, di una serena Pasqua alle tante famiglie della nostra Regione. Sia questa festività l'occasione di ritrovarsi in famiglia, di stare insieme e magari di portare una parola di pace, di amicizia, di stima con le persone che ci stanno più vicine. Buongiorno a tutti e tanti auguri di buona Pasqua a tutta la città di Reggio Calabria, ai reggini, a tutti gli italiani, diciamo. Di pace e di felicità. In questi periodi non c'è politica di destra e di sinistra, gli auguri vanno a tutti gli italiani. Tanti auguri a tutti i reggini e ai calabresi di una Pasqua felice, di serenità e di pace. Assolutamente sì, auguri ai reggini, auguri ai calabresi, auguri a tutti gli italiani per una santa Pasqua. Tantissimi auguri di una santa e serena Pasqua per tutti i cittadini dell'area metropolitana di Reggio Calabria e per le loro famiglie e a tutti i cittadini della Calabria intera. Assolutamente sì, auguri a tutti quanti di una serena Pasqua, sperando che si possa ritrovare successivamente alle feste pasquali un nuovo pieno carico di sorprese.